Quando si dice è tutto magna magna, i contribuenti siciliani hanno pagato agli onorevoli tutto ciò che c'era da pagare, persino i soldi dei fumetti. Livio Marrocco, ex capogruppo di Futura e Libertà Lars, ha pensato bene di farsi rimborsare gli spiccioli per alimentare la sua passione per Diabolic, 179 euro e 40 centesimi. E poi ci sono le bosse Louise Whitton e le clavatte Herms, i gelati e i caffè. Già i caffè, quando deputate dipendenti dei gruppi parlamentari dell'Ars non andavano alla buvette dell'Assemblea, il caffè lo sosseggiavano nei loro uffici. Un buon espresso preparato con le cialde, pagate anch'esse con quei soldi che devono servire, così impone la legge, per finalità istituzionali. Il ciclone giudiziario travolge anche la Sicilia, proprio come era accaduto nelle altre regioni d'Italia. Il procuratore aggiunto Leonardo Aguece, i sostituti Maurizio Agnello, Luca Battinieri e Sergio De Monti si sono presi tutto il tempo necessario. E di tempo ce n'è voluto parecchio per spulciare faldoni e faldoni di carte sequestrate dai finanzieri del gruppo tutela spesa pubblica. E a giudicare dagli atti altro che tutela della spesa. I 13 capi gruppo della scorsa legislatura, l'inchiesta attraversa tutto l'arco parlamentare, hanno ricevuto l'avviso di comparizione davanti ai PM. Si comincia il 24 gennaio con Francesco Musotto. Il 16 dicembre 2009 la signora Rosa Anna Restivo, dipendente del gruppo misto, digita il codice del Bancomat in uno dei negozi più lussuosi dello shopping palermitano. Compra una borsa Louise Whitton da 440 euro per conto di Giulia Adamo, che del gruppo è stato il leader. Sulla ricevuta di pagamento c'è scritto regalo per signora Ferrara per iniziativa politica. Gli onorevoli hanno la passione per il ristorante, la buvette dell'Ars è la più gettonata, i prezzi sono abbordabili ma a pagare non sono stati gli onorevoli ma il gruppo. Onorevoli cenano e pranzano spesso fuori, quasi sempre in compagnia e a giudicare dalle cifre si tratta di lauti pasti, sempre e comunque a spese del gruppo di appartenenza. Il 22 dicembre 2009 ad esempio c'erano 100 persone al ristorante La Scuderia di Palermo. La fattura è stata pagata su disposizione di Giulia Adamo, 100 euro a coperto, totale 2.500 euro. Quando nel 2010 il figlio dell'ex assessore Nino Strano decise di commolare a nozze, il gruppo misto decise di fargli un bel regalo. Una coppa di argento comprata la gioelleria fecarotta di Catania, 1.600 euro per celebrare il fatidico sì. Una spesa che ora viene contestata alla Adamo in concorso con l'ex onorevole Guglielmo Scammacca della Buca. Tra le spese sostenute per finalità non istituzionali ce ne sono alcune davvero curiose. 1.320 euro per l'acquisto di cravate e carré di seta Herms attinti dal fondo casta del gruppo misto. Quelli di Fri invece spesero 79 euro per due termocommettori, due stufe. Il suo nome era registrato nell'elenco dei clienti di uno dei più noti negozi articoli tecnologici. Un cliente di tutto rispetto, l'onorevole Totò Lentini, quando era al gruppo misto, acquistò 8 iPad da pick-up, prezzo totale 5.970 euro. Nell'avviso a comparire recapitato ad Antonello Cracolici, capogruppo del PD, ci sono i nomi di mezza classe dirigente del partito in Sicilia, dal segretario Giuseppe Lupo al componente della segreteria nazionale Davide Faraone. Oltre un milione e mezzo usato per attività che secondo i PM non sono direttamente riconducibili al gruppo. Tutti i deputati avrebbero ricevuto in debiti anticipi per un totale di oltre 400.000 euro. Ma dalle casse dell'AS partivano bonifici anche per esponenti del partito non eletti a Palazzo dei Normanni, da Mirello Crisafulli e l'ex sindaco di Corleone Pippo Cipriani. E spuntano anche dei soldi che sarebbero stati pagati in nero a due collaboratori. Ma il PD pagava di tutto con i soldi del gruppo, dalle cialde per il caffè all'acqua, dai concerti a sostegno del partito ai sondaggi, fino ad arrivare ai regali di nozze e agli SMS. Non ma meglio in casa MPS, il gruppo ha pagato un pasto per 200 persone in un ristorante di Marineo e una consulenza da 4.000 euro a una società della moglie del deputato Giovanni Greco. Il capogruppo dell'UDC e del PID, Rudy Maira, è indagato per una serie di spese, tra cui il leasing per due Audi A6. Al PDL, invece, tra le altre cose, si sarebbero fatti rimborsare anche la mancia ad un euro in focacceria per quattro volte e c'è anche rimborso di una contravvenzione a un'auto intestata al capogruppo Innocenzo Leontini.